Allora eccoci qua, benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta, quest'oggi staremo assieme fino alle 18 e 36 minuti circa, nella seconda parte essendo oggi martedì. Continuiamo ad ospitare laureati dell'Università di Trieste, quest'oggi parleremo di storia e di un argomento abbastanza particolare perché vedremo come la stampa triestina all'epoca trattò la rivolta dei boxer, la rivolta dei boxer è quella rivolta in Cina praticamente, credo, beh insomma c'è il film 55 giorni a Pechino che tra l'altro è anche un bel film e che può anche aiutarvi così anche poi lo andate anche a vedere. Nella prima parte siamo invece in compagnia del dottor Matteo Vinci, ricercatore dell'OGS, che ringrazio per essere venuto a trovarci, con il quale parliamo del terzo anno di, credo si dica Pint, no? La pronuncia corretta, Pint of Science. Ho avuto giusto un consulto con mio fratello che di solito è il mio consulente principale su questo, mi dice che si può dire in entrambi i modi, Pint o Pint, per la maggiore di solito va Pint, Pint of Science. È come Dynasty, alcuni dicono che si pronunciasse Dynasty o... ok, io intanto chiedo scusa agli ospiti e anche ai telespettatori per lo stato agghiacciante della mia voce, ma insomma sono una vittima dei Santi degli Azzo, come si dice. Allora, Pint of Science è un'iniziativa che è giunta al terzo anno, io mi ricordo che ne abbiamo parlato, credo, al primo anno, non so se l'altro anno anche eravamo riusciti a raccontarla, ed è una... dovendola descrivere in pochissime parole, dottor Vinci è semplicemente parlare di scienza nei pub triestini, questa è la... e nasce in Inghilterra, mi pare, no? Come idea. Sì, 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 è un formato molto appunto informale, si cerca di portare la ricerca che si svolge negli enti di ricerca nella nostra regione, si è deciso di portare questa divulgazione nei pub, dove appunto le persone possono andare per bere birra e ascoltare magari qualcosa di interessante. a Trieste appunto, come diceva, è la terza edizione, in Italia invece è la quinta, in Italia Pint of Science è sbarcato nel 2015, inizialmente c'erano poche città, sei, però è una manifestazione che è piaciuta, c'è stato molto entusiasmo, è cresciuta negli anni e questa edizione in Italia sono 23 le città coinvolte. E sono tutte contemporaneamente, cioè i tre giorni 20, 21 e 22 maggio sono comuni in tutta Italia oppure se scelgo una seconda di varie... La manifestazione sì, è comune in tutta Italia, appunto sì, è la prossima settimana, quindi i giorni di lunedì, martedì e mercoledì, 20, 21 e 22, non è solo in contemporanea in Italia, è una contemporanea mondiale, perché Pint of Science è una manifestazione di respiro internazionale. Non dice Pint, io dico Pint, allora facciamo, facciamo, facciamo così. Gestiamocela come vogliamo, esattamente. Quindi siamo sì in contemporanea anche con gli altri paesi, se non ricordo male dovrebbero essere 23, gli altri paesi coinvolti, 23 o 24, tutto in contemporanea nelle stesse giornate e per quanto riguarda Trieste appunto i pub coinvolti sono 4, quindi chi avesse voglia di seguire, magari segue un po' il programma, decide quali sono gli argomenti di interesse e poi va un giorno in un pub, un giorno in un altro. Per quanto riguarda il programma triestino... Allora, vediamo intanto quali sono i pub. Io ho portato qui un programma, anche perché è colorato e vario pinto. Vario pinto anche potrebbe ricordare la... Esatto. I pub che sono coinvolti a Trieste sono 4 e grossomodo sono divisi un po' per tematismi. Abbiamo l'All London che si occupa principalmente del tema Planeta Terra, dove si parlerà di mari, di sostenibilità ambientale, di terremoti, di cambio climatico. Poi abbiamo invece il Murphy's Meeting Point, che è un argomento più tecnologico. Si parlerà infatti di acceleratori di particelle, di supercalcolatori. Abbiamo poi il Grande Buffo, che come pub tratta l'argomento della fisica e dell'astrofisica, quindi legge di gravitazione universale, il Big Bang e questo genere di argomenti qua. E poi abbiamo il TNT invece, dove gli argomenti sono più eterogenei. Abbiamo ad esempio la prima serata Our Body, che riguarda i temi sul corpo umano. Si parla di crioconservazione, di farmaci e biotecnologie. La seconda serata invece è dedicata alle scienze sociali, dove si parla di economia, in particolare economia circolare. Poi di comunicazione, di circolazione delle informazioni tramite la rete e ad esempio di informazioni anche false, come le fake news e gli effetti che possono avere su società e economia. E l'ultima sera invece al TNT abbiamo tema riguardante la mente, quindi bullismo, cyberbullismo e in generale comunicazione. Dov'è, chiedo scusa, io più o meno, beh, non è che li conosca perché li frequenti, purtroppo poi io sono a Stemio, per cui... Però il grande buffo è in Viale 20 Settembre. E dovrebbe essere praticamente di fronte al Teatro Rossetti, grosso modo. Ah, ho capito quale. Se quello che ho capito io è relativamente nuovo. Sì, sì. Ho capito quale. Chi organizza a livello... Cioè, come funziona? C'è una rete appunto a livello internazionale che dà determinate suggerimenti oppure è libero a seconda di chi vi aderisce, eccetera? Allora, in Italia, Pint of Science esiste principalmente grazie a due, diciamo, gruppi di sostegno principali, che è il sostegno a livello nazionale, gli sponsor nazionali, che sono istituti come l'INFN, l'INAF, e dopo un attimo, prima che mi sbaglio le sigle, perché queste non me le ricordo mai a memoria, oltre all'INAF e l'INFN, abbiamo anche l'AISM, che è l'Associazione Italiana per la Sclerosi Multima, e il SIR, che è la società invece di Embriologia, Riproduzione e Ricerca, e poi invece c'è un supporto a livello locale, che è principalmente fatto dagli nostri enti locali, che sono appunto ICTP, Sissa, area di ricerca, area Sarien Spark, appunto, OGS e c'è anche il patrocinio dell'Università di Trieste. Vabbè, quindi insomma, diciamo, la scienza triestina, ecco dai, insomma. Sì, tutte le realtà principali triestine hanno aderito con entusiasmo. Oh, allora, negli appunti che ci hanno mandato, c'è scritto, questa potrebbe essere una novità, ma in realtà, che la manifestazione non è collegata a ESOF 2020, però, insomma, fondamentalmente collegata o meno, anche questa è prodromica a quell'appuntamento, ecco, insomma. Sì, non è direttamente collegata a ESOF, ma grosso modo, beh, tratta gli stessi temi, perché tratta di scienza, no? Ed è forse più in linea con gli eventi che ci saranno correlati ad ESOF, e quindi tutto il festival della scienza correlato che ci sarà, diciamo, di contorno ad ESOF. E questo è un po', può essere considerato una preparazione per la città, questo genere di eventi. Tra l'altro, guardando gli eventi, no? Sono oggettivamente abbastanza vari, c'è per esempio il giorno 21, si parla di terremoti, si parla anche di, per una ricerca grande ci vuole un grande laboratorio, Sì, quindi sono acceleratori di particelle, e uno dei due, credo che la Marina Cobal sia ricercatrice anche al CERN. Ah, ho capito, tra l'altro. Quindi si parla di quei temi. E voglio dire, per esempio, questa potrebbe essere anche curiosa, spie, scienziati, giornalisti, un mistero che ha i contorni di un buco nero. Mi hanno fatto qualche spoiler riguardo questa presentazione, di cui dico giusto qualcosa, e dovrebbe essere una vera e propria rappresentazione quasi teatrale, dove i ricercatori inscenano al punto giornalisti, scienziati, e parlano di un fatto realmente accaduto, e quindi proprio come formato può essere molto interessante. Per esempio, questo del giorno 22 al TNT, bullismo e cyberbullismo, è difficile comunicare tra noi, come faremo a farlo con una macchina? Quindi, insomma, sono argomenti che spesso hanno a che fare anche con una certa attualità, se vogliamo, no? Sì, non solo questo, ad esempio, naturalmente, io parlo forse un po' più di... Sì, poi dopo è anche logico che l'attualità e l'interesse in quanti sono? Quattro, tre, in dodici appuntamenti, uno la trova a seconda di quelle che sono poi i suoi interessi, eccetera. Sì, ad esempio, per quanto mi riguarda, io provengo da OGS, quindi i temi che mi sono più affini magari sono quelli relativi al tema Planet Earth, e ad esempio tra i temi più del momento si parlerà di mondizia in mare, ad esempio la prima sera... Ah, il primo, proprio Sardelle, Sardoni, Scovazze. Sì, ci sarà Silvia Ceramicola, una mia collega, una geologa, che parlerà appunto del risultato dei campionamenti in fondo al mare, e cosa si è trovato, purtroppo. Beh, terremoto, sappiamo che l'OGS è attentissima... Al centro di cerche sismiche. E Global Strike for Future, siamo ancora in tempo, questo di che cosa... È naturalmente un po' provocatorio, come titolo, lì si parlerà fondamentalmente di cambiamento climatico, e conosco un po' meglio, tra i relatori Paolo Fedrigo, che è di ARPA, era all'università con me, e so che si occupa di comunicazione da tanto tempo, e proverà a fare un po' riflettere tutto il pubblico su questo tema. Per esempio, questo anche utile o inutile, che cos'è? E a che cosa serve la scienza oggi? Che è proprio... È un punto abbastanza centrale sotto certi aspetti, no? Secondo me sì, la cosa positiva che vedo di questo tipo di manifestazioni, è che appunto ci si mette anche un po' in discussione, no? Si fanno delle domande, ad esempio lì la riflessione è d'accordo, tutto questo impianto, questo apparato di ricerca, con anche argomenti molto specifici, poi quale ricadute ha sulla società, sul presente, sul futuro, sulla vita umana, e in questo senso può essere anche un dialogo a doppio senso. Quello che ad esempio mi piaceva e che mi ha un po' incuriosito fin dall'inizio, quando ho deciso di aderire a Pint of Science, era un po' l'idea di quelli che l'hanno lanciato, non in Regno Unito. Erano due ricercatori dell'Imperial College di Londra, mi pare, loro, se non sbaglio, facevano ricerca su Parkinson e Alzheimer e hanno deciso di invitare interessati presso i loro laboratori per far vedere il tipo di ricerca che facevano. E la cosa positiva che ne hanno tirato fuori è stato molto interesse da parte dell'uditorio e naturalmente era una cosa positiva, ma allo stesso tempo anche loro mettendosi in discussione e spiegando quello che stavano facendo hanno trovato degli spunti, idee. è una cosa a doppia mandata, insomma, a due versi, che può essere interessante sia per il pubblico e anche una bella sfida per chi viene a presentare quello che fa normalmente. Come funziona, dottor Vinci, la serata? C'è una presenza, cioè la gente mangia, questi si alzano e attaccano a parlare di... oppure c'è una... che poi... allora, poi dovete sapere che, penso me lo testimonierà anche lei, la cosa più difficile nelle conferenze, in questo tipo di cose, è iniziare, perché in genere ognuno vorrebbe portarsi dietro qualcuno che lo presenti, che introduca, che ci sia una sigla o una roba del genere, perché la cosa più difficile è dire, boh, adesso incominciamo, si dice, pum pum pum, funziona il microfono. Ma di fatti da questo punto di vista l'organizzazione, come anche tutto l'evento, la definirei abbastanza morbida, nel senso le serate cominciano attorno alle sette e mezza di sera, ci sono dei moderatori... Ah, ecco, c'è un moderatore. Sì, sì, ci sono normalmente due moderatori per pub e due presentazioni, e i moderatori introducono un po' quello che è l'evento, spiegano di cosa si tratta, introducono un po' un breve curriculum dei presentatori, di quelli che spiegheranno gli argomenti, dopodiché parte la prima presentazione, normalmente ha una durata all'interno dei 45 minuti, poi possono essere più o meno interattive, ad esempio, certe presentazioni vengono fatte singolarmente, sono proprio abbastanza frontali, altri invece magari sono un gruppo di persone, stanno trovando, secondo me, dei modi molto interessanti. Sì, vedo anche... Sono anche abbastanza persone, come qui, che la mettono in forma di dialogo, quindi per loro presentare è meno pesante e anche allo stesso tempo per gli altri fruirla è più agile, più leggera. È una, come posso dire, una tendenza brutta come parola, però è, diciamo che, sempre più uno si va affermando questo tipo di comunicazione, molto semplice, apparentemente disimpegnata, perché poi sappiamo benissimo che la leggerezza è qualche cosa che, insomma, che non si acquisisce in pochissimo tempo. Mi viene sempre in mente quelle... Adesso io non mi ricordo purtroppo il titolo di quell'iniziativa dove si chiede a ricercatori o anche a studenti di condensare in due o tre minuti la propria ricerca e magari imbastire anche un qualche cosa di, diciamo, spettacolare, ma non mi ricordo... Penso sia il FameLab. Sì. Sta andando, tra l'altro, sta andando piuttosto bene, sembra molto interessante. E anche lì la sfida è trovare un modo abbastanza sintetico, rapido, anche divertente. Ma di fatti vedo anche sempre di più tra colleghi che ci sono colleghi che vanno a fare corsi di comunicazione, di teatro, perché un po' è richiesta sempre di più questa interazione. È anche vero, no? Che in alcuni casi io sono costretto a citarmi, a ripetermi, ma anche per sottolineare determinate cose, per esempio, molto spesso alcuni dati scientifici, mettiamoli così, ti vengono in qualche modo comunicati senza che tu te ne accorga e magari sotto certi aspetti li recepisci meglio. Parlo della mia generazione soprattutto, perché probabilmente adesso è leggermente complesso. Però, per esempio, e continuo a citare due cose, io so perfettamente che cosa sono le percezioni subliminali, perché un telefilm del tenente Colombo ruotava attorno alle percezioni subliminali, sia l'omicidio che soprattutto anche il trucco che Colombo utilizzava per costringere il colpevole a confessare. Laddove invece in un film abbastanza trash si chiama I ragazzi venuti dal Brasile dove c'è la storia del professor Mengele che clona Hitler di un cercatore di nazisti che sta sulle sue tracce e ti spiegano e me l'ha detto Mauro Giacca, quindi non invento io, ti spiegano la clonazione in due minuti in due minuti di film abbastanza concentrati eccetera. E così delle volte cioè a un certo punto la la capacità di raccontare in un certo modo e di avere un pubblico più attento magari perché concentrato su altro può aiutare anche una certa comunicazione scientifica mi rendo conto. la penso abbastanza in questi termini sì il mezzo per comunicare una stessa cosa è molto importante e come dicevo prima secondo me qui la sfida è molto interessante perché bisogna riuscire a non annoiare le persone allo stesso tempo non perdere troppo contenuto e quindi è proprio un gioco di equilibrio. Tra l'altro dove avevo chiesto voglio dire che lei sappia già alcuni alcuni interventi hanno anche il supporto di che ne so proiezioni cosa del genere oppure ci si di rigolette limita alla alla conversazione? Ci sono c'è veramente un po' di tutto nel senso c'è della presentazione frontale e so che sicuramente ad esempio ne abbiamo parlato oggi la mia collega che parla di immondizie nel mare mostrerà dei video c'è appunto invece la forma di dialogo dei ragazzi che presentano al grande buffo e so che l'altro anno addirittura c'era un gruppo che suonava quindi veramente di tutto ma perché c'è un gruppo di medici che suonavano poi non so mi sembra che i ragazzi dell'altro anno fossero di di Elettra quelli che suonavano quindi del sincrotrone è un modo è un modo adesso diciamo così abbastanza come dire consolidato di comunicare la scienza eccetera che lei sappia perché poi all'inizio trovò delle difficoltà degli erigimenti da parte della scienza paludata eccetera oppure ci si rese conto abbastanza presto che forse era necessario non voglio dire scendere dal piedistallo perché mi pare una tecnologia esagerata ma comunque voglio dire aprirsi di più ma allora in termini generali mi viene da dire che le persone che hanno partecipato sono contente entusiaste si sono divertite magari il formato non è non è agevole per tutti non è facile per tutti effettivamente all'interno del pub non è detto che ci siano solo persone che sono interessate ci può essere rumore sia comunque un microfono bisogna cercare di uscire appunto dall'aria un po' troppo forse ingessata seriosa saper anche saper anche cogliere spunti magari una domanda anche non prevista che blocca il discorso in una conferenza potrebbe essere un problema può diventare uno spunto invece sì direi che sono questi quindi bisogna anche saper cogliere sì e generalmente vedo che partecipano tendono a proporsi a partecipare proprio quelli che sono un po' più stimolati da questo genere di situazioni volevo chiedere una cosa che esula un pochettino ma mi incuriosisce un po' esistono degli argomenti comprenda bene la domanda cioè non non è qui o chi degli argomenti di moda quando si quando si bastisce un programma come questo o anche francamente quando si organizzano altre altre iniziative di questo genere mutuando dall'arte per esempio si sa benissimo che se uno vuole riempire una sala con una conferenza di storia dell'arte se parli di Van Gogh degli impressionisti adesso di Leonardo prendi anche i contributi della regione che non va bene adesso lo perdono perché va bene perché sorride no penso ci possano essere sì argomenti di questo tipo ripeto io magari posso dirlo più per il tema che mi riguardano ad esempio pianeta terra sì sappiamo tutti che gli argomenti più ma anche perché hanno una certa importanza più in voga adesso sono sicuramente il cambiamento climatico tutta la tematica relativa alla plastica e alla gestione delle immondizie negli oceani eccetera esatto io stesso onestamente nella mia esperienza di lavoro vedo che ha ha un impatto diverso se posso parlare della mia esperienza mi trovo a lavorare in un certo progetto ormai da nove anni inizialmente aveva delle tematiche comunque importanti ma forse non così appunto di grido nel momento in cui è entrata la tematica delle plastiche del marine litter dell'immondizia nel mare ho visto che l'interesse si è fatto molto concreto molto forte io in particolare in OGS lavoro in dipartimento di oceanografia mi occupo lavoro in un gruppo di basi di dati di gestioni di dati e fondamentalmente da quando sono lì gestiamo dati che vanno veramente dall'oceanografia fisica alla chimica alla biologica ed in particolare negli ultimi anni ci siamo occupati della raccolta di dati di inquinanti e successivamente negli ultimi anni negli ultimi due anni di quello che è plastiche e marine litter e nonostante la gestione dati fosse sempre gestione dati si vede che certi argomenti sono più caldi potremmo dire quindi il parallelismo mi sembra giusto anche come aggettivo di questi tempi poi tra l'altro ho visto adesso questo è un discorso che ho visto certi titoli su certi giornali eccetera che confondono l'iscaldamento del pianeta col clima che mi pare una cosa veramente abbastanza anche pericoloso da messaggio da far passare come messaggio ecco insomma perché è una come posso dire è una stortura ad arte del problema insomma sì naturalmente sicuramente quando si fa divulgazione bisogna stare attenti a quel messaggio che si che si veicola delle volte magari con cattiva fede si rischia un po' di deformare delle volte forse anche con cattiva fede io mi riferivo a quello perché come diceva la mia professoressa un esprima al tournée e quindi mi riferivo veramente a chi utilizza determinate cose per far passare altri messaggi sì purtroppo c'è questo e tra l'altro sempre per far pubblicità al paint of science credo che ne parleranno un po' nella serata di social sciences dove parlano di comunicazione e di eventuali effetti indesiderati delle fake news delle informazioni non fondate le ricadute che possono avere già che ci siamo mi pare è finito il convegno dei terrapiattisti a Palermo mi pare che siano andati anche là ne ho sentito parlare sì non sono informatissimo mi sembra di capire però è anche vero le tocca questa domanda che tocca tutti tocca tutti gli scienziati che vengono che vengono i nostri ospiti per questa stagione poi ogni anno cambio le domande ma insomma fino a due o tre anni scendiamo un po' di più dai fino a cinque anni fa nessuno avrebbe mai pensato che la scienza dovesse in qualche modo tornare a difendersi da determinati attacchi da determinate speculazioni posso anche dirlo da certe idiozie per dire la verità è logico poi che questi attacchi riguardano aspetti diversi della scienza sia essa ricerca sia essa scienza medica eccetera però insomma voglio dire questa storia del uno vale uno non è non è applicabile io sono un fautore dell'uno vale uno per quel che riguarda per esempio la mia la mia estrazione chiamola accademica nel senso che secondo me un film ognuno è in grado di dire se il film è bello è brutto io che ho studiato la storia del cinema posso avere più elementi per spiegare perché un film dovrebbe essere più importante però insomma alla fine si arriva sempre alla idea mi piace non mi piace quando si parla di ricerca quando si parla di scienza è logico che la mia opinione non può valere quella di chi ha studiato quella di chi ha però voglio dire si è arrivati anche a questo a quelle come c'era su facebook questo lo dice lei rivolto a gente magari con laurea master una roba del genere 5 anni fa non era pensabile una roba del genere adesso un po' meno per dire la verità da qualche mese a questa parte mi sembra che forse o qualcuno era insalito oppure ha pensato beh forse non è il caso di continuare di continuare così però c'è stato un periodo in cui veramente io avevo un po' di come dire io odiavo di scienza a scuola ma avevo un po' di partecipazione per quel che riguarda gli scienziati ma sì non so l'impressione ovviamente qua posso dar più un giudizio personale che altro riguardo questo è che magari certi tipi di cose possono succedere soprattutto quando si crea uno scollamento un allontanamento tra quello magari che è la realtà di ogni giorno il vissuto quotidiano e appunto certi ambiti non so di ricerca ma magari anche per quello che è la realtà medica no? sì perché penso che anche lì ci sono tante cose analoghe no? tante cure io metterò insieme un pochettino le due le due cose tante cure alternative che magari di cui magari alcune hanno fondamento alcune invece non troppo e magari tante persone si rifugiano in cose di dubbia qualità proprio perché magari percepiscono una certa distanza tra quella che è la realtà quotidiana è la scienza medica ad esempio canonica che propone sempre di approcci troppo meccanicistici e che quindi non hanno magari i risultati sperati e quindi c'è un po' una fuga così forse adesso mi sembra che sia nell'ambito della ricerca più scientifica che di quella medica c'è appunto un ritorno una maggior comunicazione un tentativo di dialogo magari si torna un'integrazione migliore con una tendenza di questo tipo laddove invece ci avviamo alla conclusione la divulgazione scientifica nel nostro paese ha fatto parsi da gigante rispetto a io ricordo adesso sono in un periodo di Amarcord perché quest'anno celebriamo tra l'altro con i miei compagni di classe i 40 anni dall'entrata in liceo per cui c'è tutto un programmare feste ricorrenze eccetera per cui però mi ricordo quando io avevo 14 anni non c'era un programma televisivo che potesse forse c'erano le prime puntate di quello di Piero Angela forse ma non c'era un programma televisivo che potesse in qualche modo invogliare un ragazzino di 10 12 anni ad interessarsi di scienza sempre che non avesse già avuto in mente sempre che non fosse già incuriosito da determinate cose mi pare di capire che adesso forse a quei livelli c'è più un problema di forse di troppa roba a disposizione e magari si è in qualche modo bombardati da trasmissioni programmi eccetera e bisogna fare un po' di come si diceva da noi di tamisare un poco insomma si può essere che effettivamente adesso la quantità di divulgazione soprattutto anche tramite la tv sia tanta eccessiva in alcuni casi quello che mi sembra di vedere di positivo è che in realtà anche nell'esperienza nel corso di studi però invece adesso i ragazzi gli studenti vengono abituati già nella laurea o nel dottorato a fare esposizioni torniamo a sì e lì invece magari migliora sul fatto di non restare chiusi nel proprio ufficetto a fare la cosa di riuscire un po' a comunicare con l'esterno riceverne spunti e questo circolo positivo ma voi siete un po' quelli di Big Bang Theory cioè un po' così c'era un titolo di un film americano che si chiamava gli consenta The Absent Mind Professor poi è fatto da Robin Williams un vecchio film Disney degli anni 60 un professore fra le nuvole si chiamava era il titolo originale e qui siete un po' così oppure anche quella è qualche cosa che è uno stereotipo che piace ancora e sul quale quindi si insiste no credo sia uno stereotipo che piace cattura anche a me sarebbe piaciuto vedere non ho seguito più di tanto ma effettivamente quando uno lo vede è divertente cattura allora ricordiamo ancora ancora un attimo come si svolge Pint of Science che è in programma il 20 e il 22 maggio sono quindi tre serate in quattro pub il London Pub il Murphy's Meeting Point il Grande Buffo e il TNT ogni pub ha diciamo così un argomento che porta avanti nelle tre serate a parte quelli del TNT che sono un pochettino più liberi ma insomma più variegati eccetera credo che il calendario sia anche intracciabile su internet sì è disponibile su Facebook ad esempio sui social network quindi chi fosse interessato può cercare Pint of Science Trieste basta e commettere Pint of Science Trieste sì sono stati comunque distribuiti anche in giro per la città negli enti di ricerca nei pub stessi quindi insomma sapete come fare per informarvi grazie allora al dottor Matteo Vinci ho detto giusto il nome sì per essere stato per essere stato con noi il dottor Vinci è ricercatore dell'OGS buon lavoro ancora grazie ci vediamo dopo la pubblicità parliamo di parliamo di storia seconda parte di Trieste in diretta vi ricordo intanto saluto il dottor Alberto Costa che è venuto a parlarci continua quella che io chiamo la nostra escursione di laureati dell'università che qui fra l'altro hanno più tempo per esporre la propria tesi di quanto l'abbiano durante l'esposizione verissimo verissimo dura pochissimo ma è quanto dura ma è un quarto d'ora sì un quarto d'ora più o meno 10 minuti un quarto d'ora è il tempo è una roba molto ristretta ecco forse anche quando quando eravamo noi studenti durava poco e magari noi la ingigantiamo ma a me sembra comunque che io ho avuto a disposizione una mezz'oretta per dire la verità però può essere che forse magari anche sono 20 minuti però il tempo passa e non ci si riempi conto è al suo momento poi più non ci si ricorda esattamente poi più passa il tempo dall'evento nel caso mio di tempo ne è passato abbastanza e magari più uno ingigantisce allora come è annunciato vi ricordo fra l'altro che dopo mi sono scordato all'inizio dopo di noi e prima di macete va in onda l'ultima puntata del nostro viaggio all'interno del teatro del teatro verdi un termine che vale la pena seguire il dottor Costa è laureato in storia con una tesi sulla rivolta dei boxer e come la rivolta dei boxer è stata affrontata dalla stampa triestina faremo vedere se non ti offendi giusto per arricchire un pochettino alcune immagini dal film 55 giorni a Pechino che è un classico del 63 ma neanche un brutto film secondo me devo dire la verità non l'ho visto però lo conosco è un film che tratta appunto romanzata logicamente la storia della rivolta dei boxer e quindi ogni tanto magari vedremo qualche immagine giusta intanto però la prima domanda è laurea in storia come mai hai scelto hai scelto storia allora io mi sono riprimato al nautico quindi tutto un altro ambito ho fatto un periodo ho fatto un periodo a Bordi insomma ho navigato per un periodo poi ho visto che come vita insomma non mi piaceva non era per me e ho deciso di provare a fare l'università siccome storia è una passione proprio una roba che mi è sempre piaciuta sono sempre stato appassionato di romanzi storici di storia in generale ho deciso di intraprendere questa carriera così a storia e devo dire la verità mi sono trovato bene è il mio proprio il percorso diciamo da un certo tipo di studi superiori che magari non non prevedono poi lo sbocco universitario invece ad un appunto ad un percorso universitario è stato difficile a parte che voglio dire anch'io ho frequentato una facoltà prima di scegliere lettere per cui è abbastanza comune che si diciamo si torni sui propri passi della scuola superiore viene fatta in un time quindi si ha ancora idea è stato un momento un po' particolare hai riflettuto se posso chiedere hai riflettuto tanto no la scelta della facoltà è stata abbastanza immediata c'erano forse qualche due scelte come alternativa ma alla fine sono soddisfatto devo dire la verità che non avendo fatto un liceo quindi non avendo una preparazione liceale comunque ci sono delle lacune di base specialmente non so per quanto riguarda il latino banalmente immaginavo che no quanti esami dovete fare? sono 21 no di latino ah di latino no di latino per fortuna non bisogna farli diciamo che se uno si specializza nella parte di antichistica o anche in storia medievale o moderna è richiesta la conoscenza del latino io non avendo questa conoscenza comunque di base ero più portato a fare contemporanea e mi sono specializzato in storia contemporanea immaginavo che il latino saltava fuori allora all'interno dunque di storia tu approfondisci questo argomento che fondamentalmente diciamo non è molto non è molto conosciuto diciamo che anche all'interno proprio di filioni storiografici italiani non è tanto approfondito infatti da un lato ho voluto approfondire questo tema che era per me sconosciuto dall'altro comunque sono appassionato di Estremo Oriente cioè avendo avuto l'opportunità di visitare alcune città sono rimasto affascinato e quindi questa tesi mi ha permesso di coniugare sia lo studio appunto di un evento sconosciuto sostanzialmente sia lo studio di anche della stampa della mia città insomma perché sono da Trieste e quindi mi ha permesso di approfondire questa tematica due argomenti appunto quindi sì esatto l'unione di due tema allora parliamo un po' intanto della rivolta dei boxer la rivolta dei boxer se inquadro giusto io qui correggimi perché dirò sicuramente delle sicuramente delle castronerie per chi ha visto l'ultimo imperatore mettiamola così la rivolta dei boxer precede ciò che poi succede durante cioè l'ultimo imperatore incomincia dove la rivolta dei boxer finisce insomma un decennio dopo siamo lì allora la rivolta dei boxer è alla fine il momento di arrivo di tutta una serie di movimenti che hanno scorso e coinvolto la Cina nel corso dell'Ottocento bisogna pensare che la Cina all'inizio dell'Ottocento era comunque un impero immenso e sostanzialmente geloso delle proprie tradizioni chiuso e profondamente isolazionista quindi gli unici contatti che avvenivano con l'Occidente erano tramite pochi commercianti diciamo occidentali che avevano delle relazioni con delle società di commercio a Canton successivamente tramite le pressioni in particolare dell'Inghilterra e dopo le varie guerre dell'Oppio la prima che va dal 1939 al 1942 e la seconda che invece va dal 1856 al 1860 la Cina è stata costretta forzatamente ad apparirsi al mondo esterno insomma e durante questo periodo ci sono state anche delle rivolte interne tra cui la più famosa quella dei Taiping che è una rivolta diciamo di stampo cristiano e ugualitaria che ha un po' scosso proprio il fondamento della società tradizionale cinese che era invece molto piramidale e chiusa insomma dal punto di vista sociale e è stata costretta appunto la Cina ad aprirsi al mondo esterno ci sono stati dei timidi e tutto sommato infruttuosi tentativi di ammodernamento in special modo nell'ambito militare insomma degli armamenti e in seguito anche una serie di disastri naturali tra cui la sondazione del fiume giallo un periodo di ossicità e anche diciamo l'arroganza degli imprenditori occidentali che volevano arraffare il più possibile o comunque assicurarsi con la proprietà e le concessioni soprattutto sia minerarie che ferroviarie più importanti hanno finito per esasperare la popolazione e praticamente sollevarla contro gli occidentali ecco gli anni sono proprio della rivolta? allora diciamo che inizia i primi movimenti si hanno già nel 1899 ma il culmine è proprio nell'anno 1900 in cui si ha l'assedio delle legazioni occidentali che credo sia fondamentalmente quello che stiamo vedendo nel cioè praticamente il film si ambienta durante questo assedio che dura 55 giorni appunto dal 20 giugno al 14 anzi 15 di agosto perché questi si chiamavano boxer? allora i boxer la parola boxer deriva da una traduzione un po' impropria fatta dai primi missionari perché il nome cinese è Ietuan che significa pugni di giustizia e concordia inoltre gli affiliati di questa società segreta perché inizialmente era comunque una società segreta praticavano una specie di Kung Fu delle arti marziali assimilabili a Kung Fu che avevano tutta una tradizione anche militare prima pregressa e che credevano avevano la credenza che se questi esercizi fossero diciamo fatti correttamente avrebbero poi donato l'immortalità e quindi avevano anche delle credenze appunto di essere invulnerabili alle pallottole e tutta una serie di convinzioni di questo genere il nome deriva da quello sì diciamo i primi missionari che sono venuti in contatto con questa società segreta traducendo boxer pugni hanno tradotto con boxer e da lì appunto sono diventati pugili tra virgolette ha assunto era sempre una rivolta contro diciamo contro lo straniero allora inizialmente no inizialmente la società di boxe derivava da una società segreta quella del lotto bianco che era anti-mancese quindi era contro la dinastia dei Qing che era quella regnante per cui diciamo che all'inizio era rivolta contro la dinastia regnante l'ho capito poi in seguito ad alcuni fatti è all'appoggio ricevuto dalla reggente che era l'imperatrice vedova Cixi si sono rivolti esclusivamente contro gli occidentali sono stati manovrati rivolti contro gli occidentali però vedi ne discutevamo anche prima e a me un po' intanto secca dover tirare in qualche modo acqua al mulino mio insomma però io più che vado avanti più vado avanti in questo tipo di cose più mi rendo conto di quanto non so vedere un film in un determinato momento della propria crescita diciamo anche culturale o cosa ti colpisce certe cose ti restano in mente per esempio io non ho alcun altro modo di conoscere per esempio in realtà come l'imperatrice vedova e invece avendo visto questo film probabilmente quando avevo credo una decina d'anni eccetera mi è rimasta l'immagine poi dell'attrice che le interpretava in un certo modo perché poi è logico che il cinema si impossesse di determinati fatti e lì diciamo che era comunque una figura fascinante era una figura fascinante anche un po' per certi aspetti verrebbe da dire quasi da fin dell'orrore per come viene presentata eccetera che poi appunto è molto libriana ecco però tante volte il fatto sta che ti resta come io ho rivisto il film due mesi fa circa mi è parso ancora molto valido dal punto di vista narrativo non ebbe grande successo devo dire anche questo in realtà appunto non lo conoscevo prima di di fare la tesa non è mai stato la rivolta non ha mai avuto un significato diciamo ancora troppo presto probabilmente popolare quindi era una setta che diciamo che poi essendo anche i contadini stessi esasperati da come venivano trattati diciamo dagli occidentali essendo molti in una situazione di crisi dovuta appunto all'asticità e all'arrivo del raccolto poi tanti contadini che in realtà erano semplici contadini hanno partecipato alla rivolta contro gli occidentali sono quasi inseriti diciamo c'è stata comunque una larga partecipazione popolare nel momento in cui però gli occidentali hanno reagito e quindi hanno prestato soccorso alle legazioni hanno liberato le legazioni hanno costretto poi l'imperatrice e l'imperatore a fuggire pian pianino gli aderenti si sono diciamo dispersi i contadini sono ritornati alle proprietà insomma si sono un po' demoralizzati hanno visto che la rivolta non portava da nessuna parte che comunque le armi occidentali erano più forti e quindi alla fine si sono dispersi ecco allora alla diciamo a queste a queste problemi insomma in questi problemi c'era dentro anche la strumentaria si ha avuto la partecipazione più limitata della verità la Germania era più presente no? no i più presenti erano i paesi più vicini geograficamente quindi la Russia e il Giappone che per ragioni appunto geografiche hanno potuto cambiare no io davo a livello più europeo ecco insomma no diciamo a livello europeo la più presente era la Gran Bretagna anche se bisogna dire che le forze mandate sul posto erano per la maggior parte indiane quindi erano diciamo più impero britannico che Gran Bretagna e invece come proprio truppe diciamo occidentali erano gli Stati Uniti non proprio europei comunque gli Stati Uniti e la Francia che erano i consistenti cioè quelli più consistenti ecco come sempre la Gran Bretagna si è appoggiata come sempre la Gran Bretagna e vabbè e l'Austria-Angheria appunto che ruolo l'Austria-Angheria ha avuto un ruolo diciamo marginale però volutamente nel senso che mentre per ragioni militari e politiche tutte le potenze coinvolte occidentali sono quelle più grosse ovvero Gran Bretagna Francia Germania Italia stessa Giappone Russia e anche gli Stati Uniti hanno tutti diciamo inviato delle forze di contingenti per ragioni di prestigio ovvero per la liberazione degli assediati ma anche per ovvie ragioni politico militari ed economiche no viceversa l'Austria-Angheria e questo emerge anche da un'analisi da un articolo dell'Indipendente era più propensa a non invischiarsi troppo nelle vicende diciamo dell'Oriente per concentrarsi più sui problemi diciamo più vicini ovvero i Balcani che erano quelli che più premevano la corte austro-ungarica aveva altro a cui pensare esatto anzi viene detto in un articolo che per fortuna che la Russia viene attratta diciamo si concentra sull'Oriente perché così si distrae dai Balcani quindi noi appoggiamo pienamente l'intervento russo per dirottare la sua espansione verso l'Oriente e magari avere più mano libera nei Balcani verso la Bosnia e verso il Sud che poi dopo si sarebbe frantumato anche quello però diciamo che durante la rivolta in quel momento quindi viste queste considerazioni politiche la partecipazione è stata più che altro simbolica è stata mandata una squadra navale con quattro navi quindi il contingente era formato da fanti di marina e di marinai di queste quattro navi ma non è stato mai mandato un corpo di spedizione vero e proprio ma non c'erano nemmeno grossi interessi in loco da parte dell'Austro-Ungarica oppure c'erano? no non c'erano cioè dal punto di vista economico le imprese austro-ungariche presenti in Cina erano poche da un lato la corte stessa e gli industriali propendevano per una politica coloniale perché avevano interesse ad espandersi anche in Oriente ok viceversa la parte ungherese dell'impero quindi anche gli agrari ungheresi temevano che il grano comunque le risorse insomma dell'Oriente avessero potuto competere con quelli ungheresi quindi erano resti a imbarcarsi in un'impresa coloniale allora ricordiamoci perché questo giova farlo che in quel periodo Trieste era ancora appunto sotto sotto la quindi insomma nel film adesso io non so nel film per esempio le truppe italiane sono rappresentate dai bersaglieri non so se corrisponde poi alla c'erano contingenti di bersaglieri ma non so ecco c'erano quelli più iconici sì ringraziandovi Dio poi che non hanno fatto danni ulteriori per dire la verità nel film rispetto alla verificità storica la stampa triestina appunto come 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 seguì la la questione allora bisogna dire che però vi ragioni le non avevano inviati in loco vabbè insomma e quindi tutte le notizie che raccoglievano le raccoglievano dagli spazi o provenienti telegraficamente o dalle altre le grandi agenzie esistevano già esisteva già qualche grande agenzie di stampa infatti tante notizie provenienti non so da Londra come da Berlino o d'Amburgo cos'era a BAS probabilmente già o non so non mi ricordo perché non sempre venivano citate quindi si citava la città di provenienza ma non l'agenzia qualche volta l'agenzia ma non sempre ecco quindi nel momento in cui anche vista la situazione contingente le notizie telegrafiche sono venute a mancare si è andato un po' a tentoni a supposizioni ci si basava anche su non so i rapporti dei comandanti in loco ma spesso vista la situazione un po' caotica anche se gli stessi comandanti non avevano idea di quale fosse la situazione reale quindi ad esempio a inizio luglio si è diffusa da Shanghai la notizia che tutti gli occidentali a Pechino erano stati massacrati e si dava per vera questa notizia perché non si aveva maniera di provarla e quindi ci sono articoli che in cui si disperano si chiede vendetta più che altro ecco quello che premeva specialmente ho visto all'indipendente o all'osservatore di Cristino che erano due giornali dei tre che ho preso in considerazione era che l'armonia tra le nazioni coinvolte non si rompesse cioè non volevano che alla fine della insomma si era convinti che alla fine gli occidentali avrebbero comunque trionfato e quindi si temeva che le rivalità che già all'epoca erano presenti tra le varie potenze poi potessero sfociare in qualcosa di più grosso o in un conflitto vero e proprio quindi c'era quasi se fosse un sentore di quello esatto avevano il timore appunto che magari la Russia perché voleva appropriarsi della Manciuria o perché il Giappone voleva mettere un piede sul continente o perché la Germania voleva espandersi erano tutti un po' così incerti della volontà degli altri paesi e quindi temevano che queste insicurezze portassero poi un conflitto tra le varie nazioni ecco può essere interessante anche analizzare il tono dei vari articoli come era partecipato asettico considerando anche poi certamente l'assenza di fonti dirette praticamente no diciamo che forse quelli un po' più accurati erano il piccolo e l'osservatore testino che sono poi due quasi antagonisti diciamo essendo il piccolo vicino più a certe posizioni l'osservatore essendo più quello diciamo l'organo del regime tra virgolette erano l'uno più concentrato sulle notizie magari provenienti dall'Italia o sulle come dire sulle azioni del contingente italiano e l'altro invece viceversa su quali erano le politiche appunto di Vienna o la partecipazione austriaca appunto che la situazione non rigenerasse poi tra le varie potenze quindi il più neutro tra i tre era l'indipendente fedele al nome anche fedele al nome infatti è stato quello più equilibrato sia nelle scelte delle notizie sia nei toni ecco questo potrebbe essere anche curioso quanto tempo più o meno vabbè che non era una cronaca quotidiana eccetera però in realtà sì cioè le notizie aggesevano comunque quotidianamente o tramite gli inviati negli altri capitali o proprio dalla fonte insomma le notizie arrivavano abbastanza puntuali ecco uno o due giorni di ritardo proprio e si riusciva comunque a seguire solo che tante volte le notizie erano contraddittorie perché da una fonte arrivava che sì erano tutti morti dall'altra era no sono ancora vivi dall'altra si dice è la spedizione di soccorso ha raggiunto Pechino quell'altra dice no è rimasta bloccata c'è anche distanza di un giorno cioè di due giorni le notizie sono contrastanti invece lo spazio che questi avvenimenti avevano su questi tre quotidiani fatta un po' una media quale si deve anche capire che stiamo parlando di 120 anni fa praticamente quindi sì e quindi le cose erano molto diverse per quanto riguarda anche l'impaginazione dei giornali sì comunque erano due barra quattro pagine non erano sti fogli come siamo abituati oggi ecco però erano formato grande quindi erano e con l'interno di questo quanto c'era uno spazio cospicuo eccetera oppure all'inizio no all'inizio quando la situazione era ancora incerta non si sapeva ancora bene cosa stesse succedendo le notizie erano proprio relegate a un trafiletto oppure in seconda o terza pagina viceversa quando si è iniziato a sentire che le robe degeneravano allora si è cominciato a dare più spazio alla rivolta tanto che nel periodo diciamo clou della rivolta quindi tra giugno e agosto praticamente sono sempre in prima pagina le notizie cioè magari non occupano tutta la prima pagina però sono in prima pagina che tu sappia non so se hai guardato giusto di di riflesso insomma così anche qualche quotidiano italiano del periodo era più o meno in linea diciamo così l'atteggiamento della stampa triestina con il resto della stampa italiana questo non so perché non ho trattato mi sono concentrato solo su queste tre testate triestine sì oh e dopo la rivolta dei box che cosa successe abbiamo visto prima l'atteggiamento che avevano avuto le classi più popolari quelle che magari avevano creduto la classe contadina che aveva creduto nella rivolta eccetera una volta finita come una volta costretta appunto la famiglia imperiale se non ricordo male a disfarsi di ogni diritto no se non ho allora sì la famiglia reale comunque fu concesso alla famiglia di restare sul trono ok quindi non fu detronizzata ah ho capito per questioni politiche appunto sì sì non conveniva trovare no semplicemente il rimpiazzare la classe dirigente con un'altra avrebbe poi provocato conflitti tra le potenze insomma sarebbe stata difficile da gestire quindi rimase sul trono ma praticamente fu cioè vennero tolti le vennero tolti tutti i poteri o quasi la parte più importante dell'economia cioè gli introiti derivanti dalle dogane finirono completamente in mano gli occidentali quindi diciamo le riparazioni di guerra che aumentavano a 67 milioni di sterline di allora derivarono sostanzialmente sia dalle concessioni minerarie o dalle ferrovie ma in gran parte dal totale controllo delle dogane quindi praticamente l'economia cinese venne quasi del tutto assorbita da quella occidentale e questa situazione andò avanti fino a quando? fino a quasi praticamente la prima guerra mondiale lo capito perché dopo la prima guerra mondiale quel fatto che le nazioni europee che prima si trovavano tutte quante schierate da una parte poi si trovarono antagoniste provocò insomma la parita anche dei territori magari della Germania delle concessioni dell'Austria-Ungheria e quindi la Cina ne approfittò anche in seguito tutta una situazione di guerra civile esplosa alla fine della alla caduta della dinastia per un po' riapproparsi dai appunto di alcuni avvenne un caos non indifferente da noi vuol dire per noi da capire eccetera c'è il libro di André Marron La condizione umana che racconta un periodo abbastanza successivo quello della Cina degli anni degli anni di 30 sì quello ancora molto complesso in verità come mai un momento del genere appunto fondamentalmente rimane ancora poco poco più che poco noto perché poco noto potrebbe anche essere la conseguenza del fatto che comunque un momento poco virgolette visitato se vogliamo anche dalla storiografia italiana cioè per fare questa ricerca della tesi mi sono basato principalmente su traduzioni dall'inglese o su testi proprio in inglese e tanti risalenti anche gli anni 60 o 70 per cui di roba recente proprio incentrata di monografia o di testi sui boxer non ce ne sono molto poco è abbastanza curioso perché poi insomma voglio dire anche ma anche le stesse facoltà per dire in Italia non trattano o trattano poco le questioni orientali cioè se uno volesse specializzarsi sull'estremo oriente avrebbe poche facoltà e poche università tra cui scegliere abbiamo ancora 4 minuti quando frequentavo io quindi più di 30 anni fa quest'anno sono 30 anni della mia laurea e com'è? cifra tonda le sono quelle cifre che un po' ti danno fastidio finché 5 10 ancora ancora quando si arriva a 30 uno non ha voglia di bene le nostre tesi passavano per essere tesi molto lunghe nella compilazione e ancora così cioè si diceva boh lettere ha una facoltà ha una facilità nel fare gli esami quella volta non c'erano i semestri quindi potevi anche giostrarti in un certo modo però la compilazione delle tesi è piuttosto lunga e ancora così è cambiato per quanto riguarda la compilazione di una tesi ma essendo stata diciamo scomposta in triennale magistrale la tesi triennale è stata un po' ridotta come contenuti però lo stesso diciamo che si aggira sulle 50-60 pagine noi diciamo proprio del tempo più che non della consistenza diciamo un tre mesi per fare le robe bene sì però partì di più meglio ovviamente meno comincia ad essere un po' stretta diciamo che giustamente per fare una tesi bella insomma decente sui tre mesi dai si aggira il tempo quanto tempo prima di iniziare a lavorare sulla tesi avevi già immaginato l'argomento in realtà è un po' è stato un po' un caso stavo analizzando quali potevano essere gli argomenti da trattare poi mi sono così imbattuto in questo e ho detto ma possiamo provare ad approfondire dopo anche con l'aiuto del relatore mi sono un po' concentrato su che aspetti analizzare fare appunto l'analisi della stampa tristina come ha visto poi la rivolta è stata interessante come scelta anche perché soprattutto se è un territorio poco battuto è sempre come dire non più facile ma vuol dire più affascinante anche come lavoro è molto difficile per la verità perché appunto non hai poche fonti sicuramente non ho le fonti di red perché il cinese non lo so adesso tu sei impegnato invece nello studio io non hai capito come si chiama la seconda parte la specialistica specialistica sì o la magistrale insomma magistrale e specialistiche è uguale sì credo perché la prima è triennale sono sicuro sono triennale e magistrale la specialistica a me sono meglio come sei messo quanto ti manca ho appena finito il primo anno quindi ancora uno quindi ancora uno hai già immaginato se vuoi dire perché poi se sei scaramantico con me trovi un terreno fertile perché non sono più di tutti quanti quelli che conosco dove andare a pescare per l'argomento conclusivo o è ancora troppo presto diciamo che ci ho pensato ma ancora non ho deciso comunque diciamo che mi piacerebbe concentrarmi sulla storia locale quindi scegliere un argomento che riguarda Trieste ecco però è ancora così ancora molto qual è la bellezza di studiare storia perché perché è bello perché è bello capire come mai si è arrivati a certi esatto dove siamo e come mai si è giunti a certe conclusioni a certi fatti a certi evenimenti perché la gente ha anche agito in certe maniere cioè è come se c'è leggendo anche le fonti di un certo periodo magari i diari o le lettere ci si può quasi medesimare nella persona una è capire come ha vissuto un evento quali sono state le motivazioni per cui uno è arrivato a fare una certa cosa cioè capire proprio il perché di qualcosa l'hanno rimessa tra le materie oggetto della prova scritta della maturità o rimane fuori storia che tu sappia non ho mai seguito questo non so sicuramente non ho seguito abbastanza assurda per dire verità non ho seguito ultimamente questa ultima riforma e quindi non so soffre nemmeno il caso di farlo allora grazie ad Alberto Costa per essere stato con noi complimenti per la come si dice in bocca al lupo per il prosieguo della carriera noi continueremo ogni martedì a escutere pare che si dice così i laureati dell'università di Trieste quindi l'appuntamento è per martedì prossimo vi ricordo dopo di noi c'è l'ultima puntata dello speciale sul Verdi alle 19 circa l'appuntamento con Macete alle 19.30 l'appuntamento con il telegiornale della sera grazie a tutti ci vediamo domani alle 17.30 ricordatevi il nuovo orario anticipato di mezz'ora grazie a tutti